E' tutto pronto a Fano per la prima degli Stati Generali del Turismo che domani, sabato 10 ottobre, prenderanno il via al Teatro della Fortuna. Partendo dal City Brand, l'obiettivo del percorso partecipato, fortemente voluto dal Comune, è quello di creare un'identità che possa rappresentare al meglio la città sui mercati turistici. L'incontro, che vedrà la partecipazione di esperti del settore, inizierà alle 9.30. Dopo i saluti istituzionali si parlerà di turismo a 360 gradi, grazie ai dati, ai pareri degli ospiti e ai progetti messi in campo e condivisi anche con altri comuni, con lo scopo di avere un prodotto univoco ed efficace. Stiamo vivendo un momento molto delicato e rivedere un po' le strategie turistiche, come far in modo che la nostra città possa penetrare meglio il mercato diventa un momento fondamentale. Lo faremo con l'aiuto di professionisti come Giuseppe Iarche, che ci aiuterà proprio anche a creare degli strumenti veri, concreti, per capire come fanno, si può posizionare meglio nel mercato turistico. Lo faremo con Maggioli Cultura, uno strumento, un aggregatore che ci darà la possibilità di lavorare insieme al territorio delle valate del Metauro e del Cesano. Lo faremo con Davide Frulla, il nostro ufficio Europa, il project manager del progetto Wonder, un progetto che vuol far sì che fanno città dei bambini e delle bambine e diventi proprio un prodotto turistico, un'esperienza da poter far vivere ai turisti che arrivano nella nostra città. Quindi un momento importante da condividere insieme a tutto il mondo del turismo, da condividere insieme alle associazioni, perché crediamo che solo insieme possiamo divulgare questa bella immagine della nostra città e finalmente arrivare ad un obiettivo, quello di attrarre turismo nel modo migliore possibile.